amici di fulvio le sue ricette benvenuti oggi andiamo a preparare un secondo piatto che è anche un piatto unico semplice veloce gustosissimo tipico romano ceci e baccalà partiamo da dei filetti di baccalà li tagliate a rettangoli in questo modo le infarenate deve essere un'infarinatura molto molto leggera mi raccomando non abbondate con la farina deve essere una spolveratina sopra così adesso si spostiamo i fornelli prendiamo una bel pentolino ci mettiamo l'olio extravergine d'oliva di quello buono aglio e peperoncino e iniziamo a rosolare facciamo la nostra base bene ben rosolato aggiungiamo i nostri filetti di baccalà alziamo un po la fiamma dobbiamo lavorare a fiamma un po vi piace perché si deve formare una crosticina esterna ai nostri filetti di baccalà via l'aglio lo possiamo togliere altrimenti si brucia e facciamo questa crosticina esterna girandoli da tutti i lati mi raccomando aspettate un po prima di girare altrimenti si attaccheranno sul fondo quindi fategli fare prima bene un po di crosticina e poi li girate fate questa operazione per tutti i lati e appena sono ben rosolati da tutti i lati vedete come sto facendo io mi raccomando la fiamma deve essere ben vivace così favorite questa crosticina che si dovrà formare appena avete fatto questa operazione qua semplicemente non vi resta che bagnare il tutto con del vino bianco qui alzate la fiamma al massimo fate evaporare la parte alcolica del vino e dopodiché dovete togliere baccalà li mettete da parte i filetti di baccalà e questa diventerà la nostra base questo questo vino che è evaporato l'olio l'aglio il sapore che il baccalà ha lasciato all'interno questo sughetto mettiamo i ceci precotti con tutta la loro acqua di governo aggiungiamo subito il pomodoro la polpa di pomodoro a pezzettone e iniziamo a cuocere aggiungendo tanto tanto basilico mi raccomando perché è l'unica erba aromatica che metteremo quindi ne serve un bel po per lasciare un buon profumo anche un po di freschezza diamo una bella mescolatina aggiustiamo di sale se necessario mettiamo il coperchio e facciamo cuocere vedete come diventerà diventerà un po cremoso questo sugo perché ovviamente grazie anche ai ceci diventerà un sughettino bello bello cremoso ci mettiamo dentro i filetti di baccalà perché li facciamo insaporire con il nostro sugo diventerà un tutt'uno rimettiamo il coperchio e facciamo cuocere un'altra decina di minuti se serve aggiungiamo un goccino d'acqua e appena è pronto non ci resta che prenda un bel piatto fondo qualche fresellina sotto pane duro insomma scegliete voi qualcosa che dia un po di croccantezza sotto e fate mettete sopra il sughetto con ceci e baccalà in questo modo mi raccomando abbondate bene con il sughetto così la fresellina o il pane duro che abbiamo messo sotto si ammorbiderà un po e sarà davvero questo il piatto unico ancora un girotolio extravergine d'oliva cruda a me piace metterlo una fogliolina di basilico accanto e il nostro piatto è pronto baccalà e ceci piatto unico piatto tipico romano semplice facile e veloce un piatto antico della tradizione non mi resta che andarmelo a gustare insieme a voi guardate che è bello un piatto molto molto bello che a me piace tanto vi invito a seguirmi nei miei canali social iscrivetevi al mio canale youtube visitate il mio blog www.fulvialesuricette.it ciao a tutti da fulvio alla prossima ricetta ciao a tutti ciao 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 ciao